Buona Pasqua a tutti e a ogni persona che è in ascolto e attraverso voi che mi ascoltate e voglio che questa Buona Pasqua raggiunga tutti. Il messaggio che incolgo quest'anno dalla Pasqua può essere riassunto in una frase di San Giovanni della Croce, il quale dice Dove non c'è amore, metti amore, troverai amore. È quello che Dio ha fatto con noi e continuamente continua a fare. Dove non c'è amore, Dio risponde con il suo amore, facendosi cariche dei nostri vuoti, dei nostri defici, dei nostri peccati e li assume e li sconta per amore, per amore nostro. E grazie a questo amore che abbiamo, che celebriamo nel mistero della risurrezione, che possiamo vivere nella speranza. Allora ecco, dove non c'è amore, metti amore e troverai amore.